Siamo arrivati praticamente alla fine della potenza calcio, come vi siete trovati e se possiamo tracciare un bilancio? Sì, buonasera. Io da quando sono arrivato mi sono ambientato subito con i compagni e con la squadra, abbiamo lavorato sodio ogni giorno, abbiamo appuntato queste due amichevoli e sono andate bene. Che gruppo stanno nascendo? Stanno nascendo comunque un bel gruppo, adesso siamo arrivati in tre e ci siamo ammirati subito grazie anche alla squadra, comunque un bel gruppo. Nelle ultime due o tre amichevoli abbiamo notato che sei stato uno dei calciatori più messi in campo dal mister Caserta, come hai il tuo rapporto con lui, come ti trovi? No, io appena sono arrivato mi sono messo subito a disposizione del mister e ho cercato di apprendere più cose possibili anche grazie all'aiuto dei compagni e mi sono messo subito a disposizione anche per queste due amichevoli che abbiamo affrontato. Alla prossima stagione l'obiettivo è di crescere personalmente, tatticamente, tecnicamente e cercare di affrontare questa stagione insieme a tutto il gruppo e fare bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.